salve ragazzi sono scobar questo è il mio canale e benvenuti a tutti per come ancora se siete iscritti scrivono e credo che se siete iscritti rimangono meglio perché usciranno sempre e comunque nei video queste sono le caridine che ho appena acquistato riduce dallo scarico di quella che è nuova merce e nuovi pesciotti sono rimasti in negozio finché questo mio amico non ha finito di mettere tutto quanto a posto e poi le ho prese queste sono le ultime due sono state indiate qualche mese fa 5 mesi fa se non erro come green però non sono green le strisce sul dorso mi fanno presumere che siano scarti di green ma scarti scarti degli scarti degli scarti però a me questa colorazione mi fa impazzire dovrei provare a riprodurle visto che ne ho anche un'altra che penso sia un maschietto e se tanto mi da tanto e se queste comunque si incrociano con altri davidi potrei addirittura ottenere nuove colorazioni e striature ragazzoli stamattina ho preannunciato ad alcuni di voi che sarei andati in negozio e avrei comprato qualcosa il prezzo di queste qui sono 2,50 che do una c'è in pratica ad esemplare e spero e credo che siano entrambe femminucce infatti se riesco magari a inquadrarvene una per bene se sta ferma sta patata magari aspettate se riesco magari infatti potete notare la colorazione che è stupenda guardate a me sembra azzurrogno la striata blu quanto c'è patata tu? quanto c'è patata? ragazzoli vi ho fatto partecipi del mio acquisto anche dell'acquisto che ho fatto ieri ma io comunque spendo massimo sempre 5-6 euro sono uno spilorcione ma perché comunque i soldi non crescono sugli alberi e non bisogna buttarli così magari per le cose importanti però per la coreofilia che è un hobby magari il giù la dislessia la giusta somma di denaro diciamo così allora vi dico iscrivetevi e lasciate un bel like ci vediamo alla prossima ciao belli